Il Comitato Ambientalisti che riunisce le associazioni Italia Nostra, Associazione WWF Trentino, Comitato per la Salvaguardia dell'Olivaia e Comitato per lo Sviluppo Sostenibile, hanno inviato all'amministrazione comunale arcense e ad AMSA una nota congiunta relativa ai piani di sviluppo turistico della zona dell'Infano. Se non è l'amministrazione di Arco, è l'AMSA, ma c'è sempre da preoccuparsi, incalzano gli ambientalisti. Adesso a tremare è l'Infano, non solo per il futuro muraglione del Vallo Tomo, ma anche per quello che chiamano sviluppo turistico, anche se oggi si sa che costruire non garantisce sviluppo e certo non garantisce qualità. Anche la descrizione del progetto è impropria, osservano, si gioca con le parole privandole della loro verità. Ecco allora quello che probabilmente viene nascosto, la volontà di realizzare strutture ricettive alberghiere e spazi commerciali di rilevanti dimensioni. Al comunicato allarmistico risponde oggi AMSA per voce del presidente Renato Veronesi che abbiamo intervistato. Cosa risponde AMSA agli accuse degli ambientalisti sulla paventata cementificazione dell'Infano? Il tema è complesso. Io ho letto con molta attenzione il comunicato che i gruppi ambientalisti hanno fatto e ne comprendo anche le ragioni perché rispetto al passato il piano attuativo che l'amministrazione comunale ha approvato verso la fine degli anni 2000 era un piano attuativo fortemente innovativo. Diciamo che tra le tante cose, due erano le cose principali su cui il piano si muoveva e cioè da un lato l'acquisizione delle proprietà, delle aree che erano di proprietà di un imprenditore, di Giorgio Zomenichelli, a patrimonio pubblico. E questo fu un grande risultato. Costò alle casse dell'amministrazione comunale indirettamente, in realtà costò alle casse dell'azienda municipale, però era l'unico modo per poter pensare di avere una regia pubblica su quelle aree. Dall'altro, un'innovazione contenuta nel piano attuativo riguardava lo spostamento nel campeggio oggi a sud della Statale, di collegamento tra Riva del Garda e Nago Torbole, a nord della stessa. Diciamo che queste erano le due grandi innovazioni e comprendo che oggi, in un'analisi, in una verifica del nuovo piano attuativo, chi si ricorda del passato sia legato a queste due scelte. Dall'altra, però, dobbiamo anche dire che il piano attuativo adottato in prima adozione da parte dell'amministrazione comunale non è così come viene descritto. In realtà, la preoccupazione che le forze ambientaliste hanno rispetto ad una volumetria eccessiva è una preoccupazione non vera perché rispetto al progetto dell'inizio anni 2000, oggi la previsione urbanistica vede un calo consistente della volumetria che allora era pensata per il Linfano. E allora quanti metri cubi saranno? Quanti metri cubi verranno cementificati sul Linfano? Allora, la previsione di oggi richiama, diciamo, un valore intorno ai 30.000 metri cubi. Il Linfano è una storia molto lunga. Se dovessimo pensare a ciò che si pensava di realizzare allora ai tempi di Arcoporto, si parlava, evidentemente si parlava di cifre superiori, enormemente superiori a quelle attuali, ma anche il piano attuativo, la previsione urbanistica di inizio anni 2000, a conti fatti, prevedeva una volumetria superiore all'attuale. E questi palazzi di 10 metri ci saranno? È questa, anche questa è una previsione contenuta all'interno di questo piano. Palazzi di 10 metri significa, in buona sostanza, un piano fuoriterra più un primo, un secondo piano. Diciamo che l'amministrazione comunale, nell'individuare le altezze massime, si è rapportata alle attuali altezze, diciamo della costruzione che già esiste, che è quella del Gardaterme. Per cui le nuove edificazioni verranno fatte nella parte nord, in zona decentrata, più vicina alla costruzione già esistente, più o meno della stessa altezza.